Grazie, Presidente. Io, sul referendum da rifare che ha proposto qualche collega, sono assolutamente contrario. Non possiamo ripetere un referendum, soprattutto in questo periodo di crisi, che poi costa. Siccome i referendum costano agli italiani, io credo sia dovuto restituire i soldi del referendum del 1993. Siccome voi volete ignorare il parere degli italiani, restituite almeno non solo i soldi dei rimborsi elettorali, ma anche i soldi che sono stati dispensi per poter fare il referendum. Mi sembra una cosa giusta. Dobbiamo pensare all'economia, siamo in periodo di crisi. Visto che avete preso in giro gli italiani, è bene che gli italiani sappiano che in questi vent'anni hanno finanziato i partiti senza il loro volere, che a loro volta hanno approvato il Messi, il Fiscal Compact, il Lodo Alfano.